Stiamo cercando nuove eleve, giovani, meno giovani, chi ha voglia di darci una mano, veramente una mano. È un appello forte e chiaro, quello lanciato da Fabrizio Sarenti, presidente di SEAS Cadore Comelico. Servono aspiranti volontari per rafforzare il servizio di soccorso e aiuto sociale offerto alla comunità. Da oltre 40 anni, infatti, SEAS Cadore Comelico opera in provincia di Belluno per essere al fianco delle persone fragili di chi ha più bisogno. Noi siamo a supporto degli autonomiti accreditati su EM e operiamo sul territorio bellunese, Cadore Comelico e anche oltre i confini bellunesi. SEAS è un'associazione creata da più di 40 anni e ha come scopo l'aiuto sociale con le ambulanze in questo caso. Papà Charlie, Sierra 2 per prova radio. Parti Sierra 2. Ok, grazie. Attività di assistenza e trasporto sanitario con ambulanza in convenzione con la centrale operativa 118 della provincia rappresentano da sempre la mission del sodalizio. Una trentina i volontari attualmente attivi. Tante volte magari si parte la mattina presto, si torna anche la sera tardi. Però insomma alla fine sei orgoglioso di quello che fai perché dai una mano a chi ha più bisogno. A un volontario SEAS praticamente ci vuole solamente buona volontà e un po' di costanza. Venerdì 10 novembre alle 20 e 30 alla sala Coletti di Itai di Cadore l'associazione incontrerà la popolazione con la speranza di avvicinare possibili nuovi volontari. Persone pronte e con grande generosità a mettersi a disposizione del prossimo. E soprattutto fatto col cuore, col cuore grande che noi volontari dobbiamo avere.